Sì, da se li suonle Sì, da se li suonle Oh, io ci sono ieri, da se li suonle Sì, da se li suonle Sì, da se li suonle E non è questa 6 km 1 ore e mezzo Fa vedere il percorso Questa mica se è bella Non c'è la nelle Sì, va bene, però è la... è questa bella Fai vedere il percorso Ok, andiamo in questo l'anno Basta continuare di cuore Sì, basta tagliamo tutto Cosa fa così Google, no? Però noi facciamo così Non so se ci arriva, eh? Andiamo, andiamo, sufa, sufa Oh, io ci zella Siaussevole No, io ci sono No, io ci sono Mi sono Oh, io ci sono Mi è scopo Ma sempre Mi è scopo Ma sempre Tu non fai? Ci sono questo è un minchia, tipo medievale fa un pivano oh s**t ma la cosa è che c'è? c'è prima qui non è così non è così ragazzi con le balessiaga ma c'è gente con le ciabatte sono pazzi chi ha avuto l'idea di andare? è una cosa c'è un pozzo è un pozzo in cui si come una volta di un luogo si è in giù è una cosa importante c'è un pozzo è un pozzo è il canale ciò che c'è è il canale è il canale è il canale è il canale Sto arrivando! Un altro giornata di scalata Lissa se cado mi prendi Wow, wow flowё in东西 Wow 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 madonna che voglia cosa vuole fare questa ragazza guardate la distanza non mi piace è un'attimo è un'attimo è un'attimo è un'attimo a 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